Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Soul Society Italia. Oggi riprendiamo le analisi sulle brigate del Gotei 13, andando ad analizzare la lore della terza brigata. In passato, negli scorsi mesi, avevamo visto la prima compagnia e la seconda compagnia che sono rispettivamente specializzate nel comando generale e nei servizi segreti mobili. La terza brigata invece è una brigata semplice, nel senso che non ha un determinato compito da svolgere, però è comunque una brigata ricca di significato e in questo video lo andremo a prendere in considerazione. Beh, sicuramente partiamo dal fondatore, è uno dei capitani che faceva parte della combriccola di assassini di Geriusei Yamamoto, è l'unico parallelismo, perché l'unica cosa che conosciamo di lui è il nome, è che il colore della brigata è il verde menta e i capelli di questo capitano originale della terza brigata erano verde menta. Quindi questa è l'unica simbologia che vi posso trovare legata al Godet 13 originale. Ma andando avanti in ciò, diciamolo dai ragazzi, se pensiamo alla terza brigata ci viene in mente soltanto un capitano iconico, che è Gin Ichimaru, il traditore Shinigami che seguì Aizen per poi chiaramente ribellarsi a lui, tratendolo. È chiaro che quindi Gin Ichimaru rappresenta l'anti-eroe. E tenetevi bene in mente questo concetto perché sicuramente andrà a rafforzare molto il significato stesso della terza brigata. Seguendo però il format che abbiamo usato anche negli scorsi video, spendiamo anche due parole per descrivere la brigata stessa in termini di edificio militare della terza brigata. Beh, in realtà è un edificio molto molto bello che è stato protagonista soprattutto per quanto riguarda il campo di battaglia tra Gin Ichimaru e Itsugaya nella saga della Soul Society, in quel fighissimo scontro notturno in cui per la prima volta vediamo le abilità sia di Gin Ichimaru in azione che di Itsugaya stesso. Beh, sicuramente è una brigata molto bella anche a livello estetico. E mi sembra che in un data book si diceva che Gin Ichimaru si era divertito a piantare degli alberi di Kaki per poter fare dei dolci. E questa cosa era stata vista in maniera molto particolare soprattutto dai suoi subordinati che in parte temevano il loro capitano, chiaramente per le sue caratteristiche molto ansiogene però allo stesso tempo poi osservavano alcuni lati del loro capitano che erano prettamente molto dolci se così vogliamo definirlo. Beh, sicuramente è una piccola caratterizzazione in più che abbiamo sul personaggio di Gin Ichimaru ma bando alle ciance non penso che siete interessati a queste tipologie di informazioni o su quali dolci si mangiava il nostro caro Gin. Allo stesso tempo, tornando al discorso più serio, probabilmente il personaggio che però ci descrive al meglio il significato della terza brigata è proprio Kira Izuru, il tenente famoso di Gin Ichimaru e attuale tenente di Rose, che era chiaramente il Visard che ha riottenuto il grado di capitano dopo cento anni della terza compagnia. In passato, se non sbaglio, cento anni prima nella saga del Pendolo, anche se non si vede il tenente di Rose era la madre di Tetsuzaemon Iba, che viene menzionata da lui in quanto lui raccontava di come la madre lo aveva in un certo senso formato ad essere uno Shinigami completo anche con molta severità. Quindi in realtà gli Shinigami che conosciamo appartenenti alla terza brigata sono la madre di Tetsuzaemon Iba, Kira Izuru, nel grado di luogotenente, Gin Ichimaru, Rose e chiaramente il capitano ancestrale. Detto ciò, la terza brigata è anche stata protagonista di una saga filler con il capitano Amagai che aveva sostituito Gin Ichimaru, ma come sapete bene, nei miei video di filler non se ne parla, quindi era giusto per menzionarlo. Detto ciò, perché Kira Izuru forse rappresenta davvero al meglio la prospettiva filosofica che c'è nella terza brigata? Perché dovete sapere che il fiore che rappresenta la terza brigata è la calendula e la calendula ha sempre avuto un significato nascosto legato alla tristezza e alla disperazione. E infatti il motto stesso della terza brigata è legato alla disperazione in battaglia. E questo concetto ce lo spiega proprio Kira Izuru nel suo scontro contro Avirama, l'arrancar fraction di Barragan nella guerra contro Aizen. E forse qui abbiamo una delle poche spiegazioni all'interno della storia su una delle brigate legata proprio alla Lord della brigata stessa. Infatti Kira Izuru si espone dicendo al suo avversario di come per lui la battaglia non era nient'altro che disperazione, che la guerra porta soltanto sofferenza e che quindi criticava l'atteggiamento di esaltazione stessa della guerra del proprio avversario che invece voleva combattere all'ultimo sangue. E Kira Izuru però riesce a essere sia molto pacifista in questo suo discorso ma allo stesso tempo nettamente terrificante perché Kira Izuru riesce a mantenere sangue freddo e ad uccidere il proprio avversario in una maniera davvero tetragona e gelida perché come Kira stesso ammette la sua Wabizuke, la sua Zabakto in forma Shikai rappresenta la morte della terza brigata per disperazione. È una totale esecuzione in cui il proprio avversario purtroppo che giace a terra a causa del peso che viene raddoppiato grazie al potere di Wabizuke stessa viene letteralmente decapitato alle spalle. E questa scena che è molto fredda e anche cruenta va a rappresentare proprio la disperazione che si cela nella battaglia secondo la filosofia di Kira Izuru e della terza brigata. Quindi in realtà la terza brigata è rappresentata appieno da Kira Izuru in quanto personaggio ma voglio darvi anche un'altra chiave di lettura. La calendula ha una simbologia legata alla sofferenza, alla tristezza e alla disperazione sia dai tempi dei Greci e dei Latini in quanto ad esempio i Romani rappresentavano la calendula come un fiore sottomesso al sole in quanto si apre con i propri petali la mattina e si richiudono al tramonto e questo per i Latini significava proprio la sottomissione, la disperazione per la perdita del sole e quanto ragazzi questo collegamento è molto simile alla Wabizuke e al suo modo di sottomettere l'avversario in preda alla disperazione. Ci vedete un filo logico molto interessante tra il discorso che Tite Kubo fa fare al proprio personaggio e la simbologia del fiore stesso che è associata alla brigata. Io davvero adoro questi lavori di Kubo perché sono veramente veramente minuziosi e mai lasciati al caso. E vi do anche un'altra chiave di lettura perché in realtà la calendula nella mitologia greca è ancora più importante perché rappresenta la sofferenza per amore, la disperazione in amore in quanto, secondo il mito, Afrodite era innamorata di Adone ma il marito di Afrodite, Ares, era geloso ovviamente e fece uccidere tramite un cinghiale Adone. Adone riuscì a sopravvivere e Afrodite per salvarlo lo nascose nell'Ade ma nell'Ade, all'interno degli inferi, la regina dell'inferno si innamorò di Adone e quindi lo costrinse a stare con lei sei mesi l'anno. Se non devo sbagliarmi, quindi Afrodite iniziò a piangere per questa mancanza, per questo amore perduto e da queste lacrime nasce un campo di calendule e da qui la calendula va a rappresentare la sofferenza e l'amore. E adesso ragazzi, abbiamo parlato dell'evidente parallelismo tra Kira e Zuru e la simbologia della calendula. Ma quanto cazzo è adatto anche per Ginichimaru e Matsumoto, ragazzi miei. Cioè è veramente molto adatto perché se noi pensiamo alle lacrime di Afrodite che piangono per la morte del proprio amore, anzi più che per la morte, per la perdita del proprio amore e quanto funziona anche il discorso dell'innamorato di Afrodite che viene rapito negli inferi. Un po' come, non so, ci vedo io qualcosa di simile tra Ginichimaru che va via e lascia la propria amata per andare con il demone, che in questo caso è Aizen. Quindi più che per la morte, ma proprio per il distacco del proprio amore che viene costretto a stare vicino il male in un certo senso. E quindi, ragazzi, davvero è molto intelligente fare questi parallelismi perché secondo me sono veramente, ma veramente interessanti. E mi piace andarli a scovare perché questo dà sicuramente alla scrittura dell'opera di Dekubo un valore aggiunto. Già in passato vi parlai dell'undicesima brigata, ad esempio parlando sul video dei Kenpachi. Quando arriveremo lì, insomma, a parlare di queste altre brigate vi renderete conto di quanto c'è un lavoro davvero molto figo dietro tutti questi simboli. E io, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Noi continueremo questo format. E quindi, ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui nei commenti. Vi piace la terza brigata? Vi piacciono gli Shinigami che ne fanno parte? Beh, io personalmente amo Rin, quindi adoro tutta la simbologia che si cela dietro questo personaggio. Iscrivetevi al canale, come sempre, e rimanete aggiornati su S.A.T. Italia. Ciao, ragazzi!